Ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo nel settimo episodio della serie dove rispondiamo alle domande e le quiz book di Dragon Ball Prima di iniziare volevo augurare a tutti buon Natale Perché molto probabilmente questo video ci irà a Natale se tutto va bene E poi vi volevo chiedere scusa se non sono usciti gli episodi di questa serie Come vi ha già detto abitiamo Esatto non ci siamo visti Ho fatto un video al riguardo se non l'avete visto andatela a vedere ma non importa Adesso dovrebbero riprendere regolarmente in teoria Per ora siamo a 51 pari però ripartiremo da zero ogni episodio e poi li sommiamo ai 51 pari E siamo alla domanda 110 sicché oggi andremo avanti Quindi domanda 111 Per quale motivo Goten a 17 anni non vuole partecipare al torneo di Incaici? Sono tutte difficili Torniamo incaici perché non vuole partecipare a 17 anni? Ci pensiamo ragazzi perché io non lo so Io la butto lì pensa che ci sia gente troppo forte Io dico allora o che era stanco oppure che era troppo forte per gli altri Quindi del tuo controllo Perché ha un appuntamento Sfigato Nello stesso torneo se in calcio del quiz 111 Chi è l'avversario di Goten nella sua prima battaglia? Ma allora partecipa L'avversario di Goten in chi può essere? Non ho la più palida idea Boh io la butto lì Krillie Lui dice Krillie e io boh dirò Trunks 112 Mr. Boo No raga facciamo Saraube 113 Cosa utilizza Trunks per sconfiggere il match a Freezer? Ah io lo so La spada La spada ovviamente La spada è forza Però c'aveva un nome 13 spada No no spada No proprio spada 14 Qual elettrodomestico fa comparire Trunks con una capsula o i poi? Eh aspetta fammi pensi se lo so Elettrodomestico? Si Insomma è un frigo Che ne so No è tipo quelle capsule di burra Eh si Io dico un frigo ma che ne so io Ella Sì non è tipo un frigo è qualcosa Vabbè io non me la ricordo non dico nulla 14 Frigorifero No raga Com'è possibile? Com'è possibile? Frigorifero Ad ogni elettrodomestico mi viene in mente Grande ma 115 Da circa quanti anni nel futuro No Da circa quanti anni nel futuro arriva Trunks? Io lo so a te Da Eh Aspetta eh Stoppiamo ragazzi Si Allora io dico 17 Lui dice 19-20 Ella 115 Sono circa 20 anni Quindi bene Siamo uno pari? Uno pari Perfetto Con quale maestro si è allenato Trunks? Chi si è allenato Trunks? Ah io lo so a te Io non lo so Goku Goku Anche se non era Goku però non Però non è che si è proprio allenato No no si Proviamo No Son Gohan Son Gohan Con Gohan È vero ma Perché lui non intende quando è arrivato nella Terra Lui magari potrebbe intendere anche prima Eh esatto Esatto 117 Ma pensiamoci un po' di più Cos'è venuto a consegnare Trunks a Goku dal futuro? Io lo so La medicina contro Si contro il cuore Quella roba Che poi Medicina per il cuore infatti Quindi due pari Di chi è figlio Trunks? La medicina è un po' di più 3 pari 119 Che numero c'è sulla fiancata della macchina del tempo su cui viaggia Trunks? Il 2 Se no me è il 2 Che cosa dici? Allora che numero c'è? Ci pensa Io Allora io dico 2 e lui dice 2 Che domanda è 119 119 119 L'1 Ma l'1 non era quella di Cell Allora 2 di Cell E quella di questa Vabbè non importa Trunks è venuto nel passato per scoprire qualcosa sui cyborg Cosa? Aspetta Questa ci dobbiamo pensare Come sono Secondo me Come sono stati creati E di conseguenza come sconfiggerli Ok Lui dice come sconfiggerli Io dico per scoprire come sono stati creati e di conseguenza come sconfiggerli 120 I loro punti deboli Quindi per sconfiggerli Certo Sì Forse deve scoprire punti deboli per sconfiggerli Si fa uno pari Vai Vai sì che siamo 4 pari 4? Sì 4 pari Trunks esce dalla stanza dello spirito e del tempo Cosa è cambiato in lui a prima vista? Ah io lo so I capelli lunghi Vabbè a parte quello è diventato molto più forte E ha una nuova trasformazione Ti hai detto questo? Io gli ho capelli lunghi 121 Vabbè anche 121 gli sono cresciuti i capelli È la prima cosa che si nota Appena esce che ha capelli lunghi fin qua Io ho detto Gli sono cresciuti i capelli Però ha anche una nuova trasformazione No ti ho detto solo No 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 ti ho detto che è diventato più forte la nuova trasformazione No ho detto gli sono cresciuti i capelli Però ha anche una nuova trasformazione Certo Ma via oh 5 e 4 A scapito di cosa va la potenza sviluppata da Trunks Quando supera ulteriormente il livello del Super Saiyan A scapito di cosa va la potenza sviluppata da Trunks Boh A scapito degli avversari E ne so io Boh Tipo non gli si vedano più le pupille Mi sembra Sì 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 è questa Quando tipo Vegeta è sconfitto No non sconfitto Stava combattendo contro Cell Mi sembra E poi tipo Gli fa Tell Cell Tell Cell ha una nuova forma E Diciamo Batte Momentaneamente Vegeta E si arrabbia Trunks Secondo me 122 Velocità Diminisce la velocità Cioè io ho fatto un discorso del cazzo Per una parola E poi Non Non so Per 123 Di quante volte aumentata la forza di gravità A cui si allena il piccolo Trunks Per la sua prima partecipazione al torneo Tenkaichi Boh Su me a forza Gravità 30 Vai 300 Te 300 123 150 volte Abbiamo sbagliato tutte e due Siamo delle frane Durante l'allenamento per il torneo Tenkaichi Che promessa si scambiano il piccolo Trunks e Vegeta Che arriveranno Sono me che arriveranno alla fine insieme A sfidarsi alla finale Trunks e Vegeta Sì Sono me che arriveranno a sfidarsi alla finale Credo No ma che Se lo colpisce una volta lo porterà al parco giochi Ma che Durante l'allenamento 124 Vegeta porterà Trunks a Luna Park Boh Esatto 5 pari Bravo Chi è il primo avversario del piccolo Trunks al suo primo torneo Tenkaichi Ah questo È tipo Esatto Non mi rodo dove siamo Quello con i capelli biondi Eh sì Con il braccio Che tipo fa lo sbuffone Non mi rodo dove siamo 125 Idasa Non me lo ricordavo Però comunque dai se via sai capito Dai su Sei fari Quanti anni ha piccolo Trunks all'epoca della sua prima partecipazione al torneo Tenkaichi Sette 127 Secondo me ne ha 8 Vai Se non me ne ha 8 No Se non me ne ha Sì 8 Vai 126 8 anni 7 6 Quale delle due mani Trunks dichiara di non usare contro Goten nella finale della sezione dei bambini del torneo Tenkaichi? Secondo me non usa la destra 127 Mano sinistra Quindi 7 pari O 6 pari? 7 No 6 pari Bosto più o meno 6 7 pari E Siamo alla 128 Come riesce Trunks a vincere contro Mr. Satan al torneo Tenkaichi? Mi dà un pugno secondo me Era quello quando c'era Goten Allora Se non vado errato Gli tira un pugno e Mr. Satan vola Mi sembra Mi sembra anche a me Proviamo 128 Sì c'è 128 Io con un pugno Dandogli un pugno Pianissimo Sì Quindi siamo 8 pari Quale è l'avversario contro cui Trunks e Goten travestiti da adulto avrebbero dovuto combattere la prima battaglia? C18 secondo me C18 dici? Io piccolo Te piccolo Bene 129 Kila Chi è Kila? Non importa Il piccolo Trunks e Goten commettono un errore nella fusione E l'unione ha come risultato un ciccione Perché? Perché sbagliano Sì esatto Alla fine sbagliano e mettono il pugno 130 Perché Trunks sbaglia la posizione al momento del Sion Esatto E mette il pugno Quindi 9 pari Sì 9 pari Perfetto siamo 9 pari però Perfetto siamo 9 pari E questo video diciamo che si può concludere qua Abbiamo risposto a 20 domande anche in questo Eravamo Molto bene 51 pari 51 pari quindi più 8 pari No 9 pari Siamo 60 9 pari No sì no 60 pari E siamo ancora la domanda 130 Sicché vediamo di finire la svelta Allora Richiesta importante anche a questo giro Vai prego Allora come al solito 180 like 180 like E saliamo a 2.000 visualizzazioni Perché è Natale 2.000 visualizzazioni Allora 1.000 entro Natale Dal 26 in poi potete arrivare anche a 2.000 Esatto Solo perché è Natale Mi raccomando E niente ragazzi Passate dagli altri due canali Ricordatevi a 100 iscritti Video collezioni manga Sicché iscrivetevi E niente Sta luce E niente Buon Natale a tutti E ci vediamo in un prossimo video Ciao raga Ciao raga Ma che cazzo Che meraguarda come si fa Che video cazzo